Buonasera, ben trovati all'appuntamento con la settimana di Icaro Tigiri, percorriamo allora i fatti più importanti di questi ultimi giorni e partiamo dai problemi relativi alla crisi economica, problemi che si ripercuotono sulle famiglie, come emerge chiaramente dai dati presentati relativi ai primi cinque mesi dell'anno dalla Caritas di Rimini. Se i numeri infatti non si discostano da quelli dell'anno scorso, sono le nuove caratteristiche della povertà a preoccupare. Vediamo. In cinque mesi 1.300 persone, di cui il 40% per la propria famiglia, si sono rivolte alla Caritas di Rimini, un dato in linea con l'anno scorso ma che nasconde altro. Da una parte un aumento delle famiglie che si impoveriscono, cioè essendono sotto la soglia della povertà. Le persone che si rivolgono qui o le famiglie che si rivolgono qui hanno una multiproblematicità di povertà. Non è più solo una mancanza di casa, ma legata alla mancanza di casa c'è la mancanza di reddito, c'è la mancanza della possibilità di pagare l'affitto, di pagare le bollette, di pagare i medicinali, quindi una multiproblematicità. Dall'altra parte ci dice anche che la povertà non è più solo materiale, ma è una povertà anche questa diversificata. Povertà di relazione, povertà di senso, di reti parentali, di reti amicali. Gli immigrati, meno 4,2%, sono in calo, ma neanche questo è un segnale positivo. Non perché si risolvono i loro problemi, ma perché molti di loro ad esempio mandano a casa la moglie e i figli che erano riusciti a far venire qua con tanti sacrifici perché non ce la fanno più a mantenerli. E dopo l'estate ci si aspetta una situazione ancora più pesante. Da una parte la stagione che ormai non riesce più a essere una risposta alla domanda di lavoro e dall'altra le incombenze per le famiglie, dalle bollette alla scuola, ma anche e soprattutto la casa. Se non c'è un intervento anche da parte dell'ente pubblico, da parte dello Stato, delle istituzioni, proprio per una ripresa economica e per un aiuto per il lavoro, le situazioni di povertà qui aumenteranno sicuramente. La tanto sbandierata Imo di cui si sta parlando adesso, che probabilmente per la prima casa verrà tolta, ma è un beneficio di cui non godranno tutte le famiglie che si rivolgono a noi o la maggior parte delle famiglie che si rivolgono a noi, che hanno un problema di affitto. E quindi noi inviteremo proprio l'ente pubblico magari a confrontarci su questo problema e trovare, non so, una soluzione tipo buoni affitto o non so cos'altro. E andiamo adesso in aeroporto. Non ci sono stati ritardi né sorprese questa volta. Già martedì mattina il Tribunale di Rimini ha dato il via libera alla proposta di concordato presentata il 18 luglio da Aeradria. Si tratta in termini tecnici dell'omologa che fa partire il percorso che poi si concluderà con l'assemblea dei creditori convocata per il 23 ottobre. Nell'occasione la maggioranza dei creditori dovrà dare il proprio avvallo alla proposta economica contenuta nel concordato stesso. Un risultato ottenuto grazie all'apporto fondamentale di Banca Karim, la più esposta tra i creditori con i suoi 9 milioni di euro. Abbiamo interpellato sulla questione il Presidente di Banca Karim, Sido Bonfatti. Il momento è delicato e le cose sono ancora in divenire. Colgo solamente lo spunto che mi è stato fornito. In effetti la soddisfazione per la banca è duplice. Da una parte avere garantito per quanto possibile la tutela del proprio credito e dall'altra di essersi proposta o riproposta dopo un momento di sospensione di questa funzione come una possibile guida per lo sviluppo dell'economia nel nostro territorio. E poi diceva, i prossimi passi saranno quelli relativi alla governance dell'aeroporto? Questo è tutto da costruire. La circostanza che lo strumento attraverso il quale per seguire il risanamento della società sia stato quello di conferire una gran parte di crediti della banca e non soltanto della banca in capitale sociale evidentemente cambia la compagine dei soci della società di gestione. Per la quale quindi si aprono due nuove prospettive, una di rilancio industriale e una anche di rinnovo societario. Queste però sono le attività alle quali stiamo ponendo mano e sulle quali stiamo cercando di lavorare tutti con intensità e comprensibilmente anche con un po' di riservatezza. Obiettivi puntati già da qualche tempo da parte delle forze dell'ordine sui centri massaggi orientali. Uno di questi in via Flaminia è stato chiuso questa settimana dalla Guardia di Finanza. I due coniugi cinesi che lo gestivano sono stati denunciati ed arrestati per sfruttamento della prostituzione. Vediamo come è andata. Ad insospettire era stato il via vai continuo di persone, solo uomini, a tutte le ore del giorno e della notte. Così la Guardia di Finanza ha deciso di tenere sotto controllo il centro massaggi cinese Alice sulla Flaminia, all'altezza della rotatoria di Fiabilandia, e dopo aver sentito anche alcuni clienti, gli richiedero alla procura il via libero alle intercettazioni ambientali, audio e video. Da queste è emerso che giovani e avvenenti cinesi, almeno una decina, concludevano i massaggi con vere e proprie prestazioni sessuali. Prove inoppugnabili, spiega il comandante delle Fiamme Gialle Venceslay, ricordando come l'operazione metta insieme sia l'aspetto penale che quello economico-finanziario. A finire agli arresti due coniugi, 43 anni lui, considerato il dominus dell'attività, 41 lei, vera e propria maîtresse, che dal 2011 gestiva nel centro. L'accusa è di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'uomo in carcere, la donna ai domiciliari, perché madre di una bimba di tre anni. La clientela del centro, di tutte le età, veniva anche da fuori provincia. Alcuni erano abitué e sapevano cosa attendersi, mentre in altri casi erano le ragazze a proporre la prestazione a fine massaggio. I pagamenti dovevano passare dalla cassa e le giovani temevano la coppia di gestori. Tutti aspetti che emergono chiaramente dalle immagini e dagli audio raccolti. Nel blitz di questa mattina, i militari hanno anche proceduto al sequestro preventivo dell'immobile, che risulta regolarmente affittato, del valore di 300.000 euro. Sequestrati anche 33.000 euro trovati in cassa e relativi all'incasso del mese di luglio. Le indagini proseguono ora dal punto di vista fiscale per verificare il giro d'affari e le imposte evase. Abbiamo la possibilità di riscontrare con quello che è stato acquisito oggi in sede di perquisizione, quindi contanti per oltre 33.000 euro e soprattutto documentazione bancaria che abbiamo sequestrato. Dobbiamo fare dei riscontri, non soltanto in Italia, anche in San Marino, perché abbiamo visto che ci sono anche conti correnti in San Marino. E' passato ormai oltre un mese dal nubifraggio che ha messo in ginocchio la città di Rimini il 24 giugno scorso. Al 19 luglio le richieste di danni presentate all'URP del Comune di Rimini sono state 303. Le richieste riguardano soprattutto scantinati e garage allagati e vani ascensori. 370 invece le richieste di informazione, una quarantina le segnalazioni riguardanti soprattutto la pulizia dei fossi. In misura minore si sono rivolte al Comune, allo sportello, anche le attività economiche ed agricole. Noi allora siamo tornati proprio questa settimana dai commercianti del centro storico che avevamo lasciati disperati un mese fa. Siamo andati a chiedere cos'è cambiato in questo mese. Vediamo. Avete praticamente ricostruito tutto? Sì, tutto da capo abbiamo iniziato. Comunque una nuova spinta siete riusciti a risorgere praticamente? Sì, senz'altro, se no non andavamo avanti. Quando avete riaperto? Due giorni fa. Qui ci troviamo in via Castelfidardo, anche questa è stata una delle zone più colpite dal nubifragio. Qui la situazione è particolare perché se i negozi all'inizio della via non hanno subito danni particolari, invece qui a metà via c'è una specie di conca. Ad un mese esatto dal nubifragio, come sono cambiate le cose? Cos'è successo in questo mese? Nulla. È rimasto tutto come prima naturalmente e cercano di dire che è stata una calamità naturale, ma credo proprio non sia così e andiamo avanti. Però bisogna dormire tutte le notti che appena piove pensiamo che possa essere di danno a tutto. Siamo obbligati a tenere tutte le cose in alto e non è un bel vivere. Al di là della puzza di fogna che si sente in continuazione. Si continua a sentire? Di più. Perché più che le calamità naturali sono state le fogne aperte molto in ritardo. Che cosa è successo in questo mese? Cos'è cambiato se è cambiato qualcosa? Non è cambiato nulla. Cioè è tutto come un mese fa. È solo pulito adesso. Cioè si ricomincia e si va avanti di nuovo. Quando è riuscita a riaprire il negozio? Subito dopo due giorni. Ha lavorato tanto? Sì. Anche perché a casa cosa facevo? Mi sono messa, mi hanno aiutato comunque. Lei ha raccolto fotografie, fatture? Io ho tutto. Ho tutto. Aspetto la commercialista che mi deve fare la denuncia. C'è ancora rabbia dentro per forse... Guarda, non me lo chiederei. In questo momento ci troviamo alla Conad sotto la coin. Vi ricordate? Qui vi abbiamo mostrato le immagini con le idrovore perché c'erano stati davvero tanti danni e avevamo parlato con i proprietari di questo supermercato, Vilma e Loris. Vilma, che cosa è successo in questo mese? Innanzitutto siete ripartiti. Sì, siamo ripartiti. Fortunatamente siamo ripartiti a breve perché siamo stati chiusi quattro giorni. Diciamo l'alluvione è stata il lunedì, noi il venerdì abbiamo riaperto, ci abbiamo dato sotto. Siamo fiduciosi, diciamo così, anche se non si sa insomma il comune o l'era, come si muoveranno. E domani sera succederà qualcosa perché ci troviamo proprio qui di fronte alla sala del Consiglio Comunale che si terrà domani sera e avrà come primi due punti all'ordine del giorno proprio gli allagamenti dovuti al nubifragio. I cittadini, infatti in particolare i commercianti di Corso d'Augusto, hanno mandato una raccomandata ad ERA e al comune per richiedere il rimborso d'anni. si sono uniti, sono in 40 per ora e per domani sera aspettano risposte. E il domani sera in questione era giovedì, allora andiamo a vedere quello che è successo nel Consiglio Comunale di giovedì dedicato al nubifragio ma anche all'approvazione del piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato, un consiglio molto acceso. Vediamo. Sono le due quando il piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato è approvato col voto favorevole della maggioranza ma anche di giudici del PDL. astenuto il resto della minoranza. Prima un lungo dibattito sulla gestione del nubifragio, l'opposizione denuncia il silenzio dell'amministrazione dopo il disastro, la giunta risponde che sono state fatte tutte le verifiche e che i lavori nella zona di Santa Cristina dove ha perso la vita l'anziana Florida Bernabè erano a norma. Poi la lunga discussione sul piano per le fogne, presente anche l'ingegner Barilli di ERA, una delle critiche riguarda i costi che ricadranno sulle tariffe dei cittadini ma non si escludono nuovi contributi dallo Stato, respinti tutti gli ordini del giorno e le emozioni della minoranza anche su punti previsti dallo stesso piano. Lamenta l'opposizione che parla di ostracismo a prescindere e il nervosismo è stato spesso palpabile. Consigliere Renzi, per cortesia però, perché abbiamo fatto una proiezione di quello che dovrebbe essere un piano d'ambito che conterrà non solo gli interventi del piano di salvaguardia della balneazione del comune di Rimini, ma anche gli interventi di tutto il bacino della provincia di Rimini, dove, guardi, questo si chiama, ma cosa sta dicendo consigliere Renzi, ma ha capito come funziona il meccanismo del piano d'ambito che peraltro non è una cosa nuova? Su questo piano, così come ci siamo impiannati in questo anno, ci si può impegnare anche con l'impegno che ci riprendiamo questa sera e che è stato confermato anche dal gestore, per verificare work in progress anche le soluzioni che possono venire, che possono venire, tant'è che in questi giorni sono stati ulteriori incontri con alcuni progettisti, tant'è che c'è la disponibilità a considerare l'idea della condotta dell'ausa, è così indispensabile al netto, come dire, dell'acqua che uscirà, che è inferiore come tasso di inquinamento di 5 volte, 4 volte rispetto a quella del depuratore, è così necessaria? E questa maggioranza che non c'è sul piano della disponibilità a un confronto serio e costruttivo nell'interesse della città, e l'avete dimostrato 4 ore fa, che voi ragionate in termini di settarismo, di schieramento, di solo maggioranza, non volete mai riconoscere a tutto ciò che viene da questi banchi, e vi dico una cosa, questo è un atteggiamento che non fa l'interesse della città. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di tassa di soggiorno, questa è la prima estate con la tassa di soggiorno sul nostro territorio, almeno i comuni che l'hanno applicata, cioè quelle di Rimini e di Riccione, qualche problema c'è stato, specie per i vacanzieri di una certa età, ne abbiamo parlato con uno dei maggiori tour operator del settore sul nostro territorio, vediamo cosa è emerso. Dopo i picchi primaverili, le polemiche sulla tassa di soggiorno sono state accantonate, momentaneamente almeno. Per gli operatori, con l'estate entrata nel vivo, meglio abbassare i toni e cercare di limitare i danni di una stagione che si sta mostrando difficile come previsto. Colpa in primis della profonda crisi economica. Per valutare invece l'impatto del balzello, finora introdotto a Riccione e Rimini, si dovranno attendere i numeri e magari i confronti tra chi l'ha introdotto e chi no. Numeri a parte però, gli operatori del settore hanno dovuto in queste settimane fare i conti col malumore dei turisti, a rimanere spiazzati specie i vacanzieri di una certa età, che scelgono la riviera per i prezzi contenuti. La reazione dei gruppi di anziani che sono arrivati in vacanza è stata tremenda. Le nostre hostess tutti i giorni ricevono impregazioni, ricevono brutte parole sul fatto che una sorpresa del genere dalla costa romagnola certamente non se l'aspettavano. Purtroppo Rimini per quanto riguarda gli anziani ha fatto molto poco. Molti, ma molti gruppi mi hanno chiesto per la prossima stagione di cambiare località. Se a Riccione le esenzioni per il turismo sociale sono partite già inizio estate, a Rimini il via sarà solo da settembre. Chi si è occupato di regolamentare per le esenzioni dalla tassa di soggiorni anziani non conosce molto bene questo mondo. Innanzitutto sono non solo più i mesi di giugno e settembre i mesi del turismo sociale, ma purtroppo anche luglio e qualche caso gli alberghi ce li chiede anche fino al 10 di agosto. Limitare solo a certi periodi le esenzioni è già un errore. L'altro errore grave è quello di aver dato questa agevolazione solo ai gruppi provenienti dai comuni, ma i comuni in Italia non hanno una lira come non ce l'ha quella di Rimini, quindi ormai occuparsi dell'organizzazione delle vacanze non sono più gli enti locali. Obiezione che nella Perla Verde ha portato il sindaco Pirone ad estendere le esenzioni anche alle vacanze organizzate dai centri sociali, col semplice patrocinio dei comuni di pertinenza. Uniformità di applicazione e regolamenti, chiede Montanari, con l'auspicio di novità positive da annunciare nel congresso nazionale dei centri sociali che si svolgerà a Bellaria dal 21 al 23 ottobre. E se la tassa di soggiorno è una novità di quest'estate non lo è l'allerta caldo per quanto riguarda i mesi estivi. Un'allerta che si concentra in modo particolare in questi giorni con l'arrivo di Caronte. Negli ultimi giorni infatti sono state una quarantina in media al giorno gli accessi ai pronti soccorso per sintomi da caldo. Da metà giugno, anche quest'anno, è attivo il nucleo di emergenza coordinato dall'Auslo e promosso dai due distretti sanitari riminesi. Su una fascia di 6.100 ultra 75 anni riminesi che risultano anagraficamente soli, il nucleo emergenza caldo ne ha individuato un gruppo più ristretto, considerato a particolare rischio. In questo periodo vengono sentiti più volte a settimana se non al giorno. All'interno del servizio operano educatori ed assistenti di base che hanno maturato in questi un'esperienza specifica, soprattutto sul target degli anziani. Abbiamo un'intervista telefonica che è strutturata e quindi diciamo che l'elemento dell'intervista è l'elemento fondamentale per noi per poter raccogliere una serie di dati che permettono poi agli operatori di capire se eventualmente è necessario avere anche un approccio diverso da solo quello telefonico. Una cosa che mi preme sottolineare è che nessuno dei nostri operatori va a casa degli anziani senza che ci sia un riferimento che l'anziano ci dà, quindi nessuno degli anziani deve aprire la porta a persone che si presentano dicendo che sono della USL. Un'attività che integra una prevenzione sanitaria e un supporto sociale. Il caldo infatti diventa spesso un'occasione per conoscere più a fondo i bisogni degli anziani e farli sentire meno soli. Ancora accade che qualcuno magari esce di casa a mezzogiorno per andare a fare la spesa, insomma, però la consapevolezza di dover avere attenzione rispetto a questa cosa, così come anche persone che si sono nel tempo organizzate rispetto alle emergenze dei primi anni dove le cose erano più critiche, credo che siamo ad un buon livello rispetto a questo. Al 24 luglio quindi all'altro ieri abbiamo effettuato 2100 chiamate circa, di queste 1500 con esito e abbiamo praticamente avuto alcune necessità di approfondimento ma che comunque non erano legate al caldo perché poi, come potete capire, il progetto che parte da una risposta di disagio bioclimatico, poi quando tu conosci le persone magari le persone ti avanzano una serie di richieste che permettono di strutturare dei progetti che sono differenti a solo quelli del caldo. E la settimana di Icaro Tg si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.